salve bella gente allora siccome il video quello la che dovevo che ho caricato su youtube su facebook non me lo vuole far caricare fuo youtube per una musichetta idiota che si sente di sottofondo perché qualcuno in quel momento sta giocando a candy cross una cosa del genere comunque uno di questi giochini scemonichi vi faccio un ring affrontino su quello che siete voi salviniani partiamo dal presupposto che già dal nuovo articolo sull'aumento dell'iva mi fa sembrare che il vostro caro premier non vi vuole aiutare in nessun modo perché se aumenta l'iva aumentano le tasse quindi una volta che aumenta l'iva aumenterà anche qualche altra cosa quindi di ogni quando stuccarà sto giuaglio comunque sia il problema non è falviniani siete voi falviniani sì perché siete voi quelli che gli date l'input per rovinarci tutti già allora partiamo dal presupposto che il video della volta scorsa era un video sull'antirazzismo e che voi salviniani non sapete riconoscere di essere razzisti punto primo prima cosa del razzismo che tutti voi non sapete discriminare qualsiasi forma di vita che non sia più o meno normale quindi per voi il fatto che il tizio è nero non è normale quindi discriminiamolo il down non è normale discriminiamolo quello non è normale discriminiamolo l'uomo fassuale non è normale discriminiamo anche quello il razzismo non non comprende solo l'insulto alla razza ma anche la discriminazione cosa che voi non comprendete eeeh che cosa bella non comprendiamo le cose eeeh già 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 ho il cassato che voi scambiate l'immigrato cioè il clandestino per l'emigrato ragazzi l'emigrato è anche un turista perché viene si passa una settimana qua e poi torna a casa lo studioso è un emigrato non un emigrato l'immigrato è quello che viene qua per sostenere la famiglia a distanza poi il fatto che scendono anche le teste di cazzo vi ricordo che le teste di cazzo stanno in tutto il mondo perché tutto il mondo è paese forse questo detto non vi entra bene in testa perché tanto siete talmente ignoranti che è inutile anche parlare con voi di cose così naturali perché siete falviniani siete alieni rispetto a noi razza superiore e intelligente e soprattutto aperta mentalmente e voi falviniani siete indietro anni luce ciao 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 ciao